Ok, allora, il titolo della conferenza è il pensiero crea. Abbiamo già detto che il tema di quest'anno è il potere creativo e certamente il pensiero è uno degli strumenti più potenti che l'uomo ha a disposizione per creare, quindi ognuno di noi ha a disposizione per creare. Però diciamo che prima di occuparci della creazione riassumiamo un po' le conoscenze che abbiamo del pensiero e sulla mente. Avevo già detto a qualcuno che la settimana scorsa ci è stato presentato un'interessante panoramica sull'intelligenza che è un aspetto della mente e invece questa sera entriamo un po' di più nel meccanismo del pensiero e proprio dell'atto creativo, che è la base di tutto il lavoro di quest'anno per quanto riguarda il centro di psicosintesi. In realtà questa è la base del lavoro di tutta la vita perché il pensiero crea, vedremo quante cose possiamo fare con il pensiero che già sappiamo, ma per cui per alcuni sarà un ripasso questa serata, magari per qualcuno potrà sentire dei concetti nuovi su cui poi può riflettere e sentire se gli corrispondono. Allora, tutto parte dal pensiero. Noi lo sappiamo, sul pensiero si è detto e si è scritto tantissimo. Pensiamo per esempio a tutto il filone del pensiero positivo, tutto quel filone che è partito negli anni 60-70 negli Stati Uniti, cosiddetto della New Age, e anche la psicosintesi si occupa del pensiero dando a questo strumento, perché di questo si tratta uno strumento dell'io, una parte anche molto importante, perché il pensiero è coprotagonista nel processo di formazione dell'uomo e non solo, ma anche di tutta la realtà, direi. Il pensiero, intanto, è il contenuto della mente, che sia disciplinato o no, però è il contenuto della mente, quindi la mente è questo grande contenitore che contiene tutti i nostri pensieri, tutto quello che abbiamo sentito, letto, visto, pensato, riflettuto, eccetera, eccetera, eccetera. E' uno strumento, come ho detto prima, che possiamo utilizzare, se disciplinato, a nostro piacimento. In realtà la mente, che cosa fa? La mente riflette le informazioni che provengono dall'ambiente e che riceve tramite i cinque sensi, e poi tutte quelle che arrivano dall'interno. E vorrei fermarci, vorrei che ci fermassimo un momento sul verbo riflettere. La mente è uno specchio che riflette dall'esterno tutte le informazioni dei cinque sensi e poi riflette dall'interno tutte le sensazioni del nostro corpo, il caldo, il freddo, la posizione e tante altre cose, le sensazioni viscerali. Poi riflette anche tutto quello che arriva dalla memoria, dall'emotivo, dalla parte emotiva, dall'immaginazione, dall'inconscio e poi anche dal superconscio e dal sé. Combina tutti questi elementi, li unisce e produce qualche cosa. Infatti in Oriente la mente è definita sesto senso, proprio per questa sua capacità di unificare tutte le informazioni a darne un tutto, che poi arrivano in tutti i processi molto complicati, li sto molto semplificando, alla coscienza e ci danno delle informazioni su tante cose, sia del mondo esterno che anche del mondo interno. Il meglio dell'uomo è il suo pensiero, perché è questo che ci rende autonomi e creatori. Adesso vedremo in che senso. Stiamo un po' esaminando il discorso pensiero, abbiamo detto che il pensiero crea, adesso ci stiamo concentrando sul pensiero, poi vedremo più la parte creazione. Ma qual è la funzione del pensiero? Diciamo che pochi di noi si rendono veramente conto, pochi esseri umani, magari noi in psicosintesi ce ne rendiamo conto, perché l'abbiamo studiato, ce l'hanno detto, eccetera, però pochi esseri umani si rendono conto di quale sia la funzione vera del pensiero. E qua vediamo due faccine, una sorridente e una triste. Che cosa voglio dire con questa immagine? Voglio dire che noi veramente possiamo creare la nostra realtà interna, partendo proprio dal pensiero. Allora, è capitato a tutti che passa per la mente un pensiero triste, magari un ricordo, oppure qualcosa che sentiamo, e in questi giorni, in questi anni, la cronaca ce ne sta dando una grande dimostrazione, e poi la nostra emozione nasce un'emozione di tristezza, ci sentiamo tristi, o magari scoraggiati, o magari arrabbiati. Ecco, noi possiamo, lavorando in un certo modo, possiamo fare una cosa molto importante, cambiare dentro di noi qualche cosa e diciamo creare noi stessi. E la creazione di noi stessi è la cosa più importante che noi possiamo fare. E possiamo anche creare lo stato d'animo che vogliamo. Naturalmente dobbiamo sapere come fare. E comunque, tutto quello che esiste, qualcuno l'ha pensato e immaginato. Possiamo ancora dire che, secondo il pensiero che noi coltiviamo, così noi diventiamo, secondo l'assioma, che come un uomo pensa nel suo cuore, tale egli è. Noi lo facciamo continuamente questo, per lo più inconsciamente. Si tratta di passare dall'inconsapevolezza alla consapevolezza di che cosa vogliamo fare. Quindi passare dall'ideazione, dal pensiero che è astratto, al concreto e alla forma visibile. Qua ci stiamo un po' occupando della prima, diciamo, la prima battuta di quello che possiamo fare dentro di noi col pensiero. Creare noi stessi. Ma c'è molto di più. Perché noi, oltre a creare noi stessi, la nostra realtà interna, possiamo creare anche la nostra realtà esterna. Esattamente come creiamo un oggetto. Come creiamo un quadro. Arrediamo la casa. Creiamo un giardino. Facciamo un risotto. Un pranzo elaborato. A maglia facciamo maglioni, sciarpe. Noi possiamo creare in questo senso. Ma possiamo anche proprio creare la nostra realtà. Perché? Perché è proprio per questo che si dice che il pensiero crea. Facciamo un esempio per tutti. Se io penso di essere, anzi di non essere intelligente e non abbastanza intelligente, che cosa succede dentro di me coltivando questo pensiero magari per anni? Mi predispongo sempre, per le leggi psicologiche di cui vedremo qualcosina fra un po', mi predispongo nel sentimento, nel comportamento, nell'atteggiamento fisico esattamente come penso. E quindi otterrò l'effetto causato appunto da quel pensiero. Non sono una persona abbastanza intelligente. Ovviamente viceversa, se io penso di essere intelligente e preparata, ovviamente occorre anche la preparazione, è bene inteso, ma questo mi predisporrà in un modo tale sul piano del sentimento, del comportamento e dell'atteggiamento anche fisico, in modo che io mi comporterò secondo il mio pensiero positivo di essere e sentirmi intelligente e preparata. Queste sono cose che magari sono un po' banali, le abbiamo sentite e li sentite un sacco di volte, ma quanto le abbiamo veramente fatte nostre e poi le viviamo e le pratichiamo tutti i giorni e tutte le ore della nostra vita? Facciamo un altro passo. Chi pensa in realtà dentro di noi? Allora, va bene, abbiamo tre protagonisti, il cervello, il pensiero e la mente. E volevo fare con voi, come dire, una sorta di giochino, usando la metafora della radio. Allora, il cervello è la radio, cioè lo strumento fisico attraverso il quale la mente si esprime. Il pensiero è il programma che ascoltiamo alla radio, cioè il contenuto della mente. Il programma è nell'etere. È la mente che ci rende umani. La parola inglese men, che vuol dire uomo, deriva da un termine sanscrito che è manu, il pensatore. La mente, il principio pensante, è in qualche modo il dono divino che emancipa l'uomo consentendoli di pensare e di affermare io sono. Quindi il cervello è lo strumento ricettivo. Ricettivo dice trasmittente, quindi riceve e poi trasmette. È ovvio che un cervello intatto, esattamente, è ben funzionante, esattamente come una radio, ben funzionante, capta dal lettere, cioè dalla mente, qualche cosa. Poi esiste qualcuno che ovviamente ha pensato il programma e quindi qualcuno che si esprime, diciamo, la mente è lo strumento col quale che cosa, lì o se, si esprime. Questo per fare anche un po' di chiarezza sulla differenza che c'è tra cervello, pensiero e mente. Il cervello riceve il pensiero che è il contenuto della mente e la mente è lo strumento dell'io se, dell'io se che è il vero pensatore. Diciamo subito che pensare, pensare in modo concentrato e consapevole è molto faticoso ed è davvero scomodo certe volte perché può andare anche contro le nostre inclinazioni e i nostri istinti e quindi richiede anche un uso costante della volontà. E' per questo che poche persone si cimentano e sviluppano veramente un pensiero potente perché è difficile. Comunque, tornando al nostro pensatore, il pensiero è una sua funzione, è un suo strumento. Allora, vi leggo due righe di uno studioso, di cui non voglio fare il nome, che ha studiato molto queste questioni e che diceva, che scrive L'io spirituale di ognuno di noi, quindi il se transpersonale, l'io se, vuole che diventiamo sempre più coscienti della sua presenza, che ci immedesimiamo in lui fino a capire di essere lui nel più profondo di noi stessi. Siamo noi stessi ad aver progettato la nostra esistenza e il suo percorso, con tutti i suoi avvenimenti e le sue tappe, proprio per sviluppare in ogni direzione le nostre energie. Il nostro spirito dice a se stesso, io sono un creatore libero, fatto a immagine e somiglianza di una divinità che crea in continuazione. Se rinuncio alla mia creatività e non la esercito ogni giorno, il modo stesso in cui sono costituito in quanto uomo sulla terra mi lascerà in balia delle leggi della natura. E quindi, tornando all'esempio della radio, abbiamo lo strumento che è il cervello, il contenuto che è il pensiero, l'etere che è la nostra mente, sempre nell'analogia, e qualcuno che ha fatto il programma, che l'ha pensato, che l'ha studiato e poi l'ha mandato in onda. E questo qualcuno è il nostro io se. Quindi il pensiero è una funzione, è uno strumento del nostro io se e che ha delle funzioni molto precise. L'apprendimento, ovviamente, alcune sono ovvie, vale a dire aumento della conoscenza concreta attraverso la lettura, lo studio, l'ascolto di conferenze. Oggi abbiamo anche in un certo senso una sorta di bulimia di tutte le informazioni a cui possiamo accedere e dobbiamo sviluppare un'altra qualità della mente che è la discriminazione. Quindi imparare a discriminare quello che va bene, quello che ci nutre, quello che è funzionale a noi e quello che invece è meglio non ascoltarlo, non vederlo, non per essere separati, ma semplicemente perché ci fa del male e perché non è funzionale al nostro progetto personale evolutivo di crescita. Poi la funzione del pensiero è l'aumento della consapevolezza, ovviamente, del mondo esterno e anche del mondo interno, soprattutto. Ha la funzione di interpretare perché spiega e interpreta gli avvenimenti e i fenomeni, anche se spesso in modo parziale, perché occorre un grande lavoro mentale per riuscire a interpretare tutto quello che ci accade e avere anche delle chiavi di lettura e questo vuol dire anche studiare e conoscere. Ovviamente ha la funzione di ricordo, è legato alla memoria, al collegamento, stabilisce relazioni logiche e analogiche, cioè simboliche e collega tra loro i pensieri. In questo, per esempio, c'è tutta la grande funzione dell'intelligenza che ci è stata mostrata molto bene la settimana scorsa. Ha poi la funzione di progettualità, fa progetti per agire, ma quello che interessa a noi è la creazione del nuovo. Una delle funzioni più importanti del pensiero è quello di creare il nuovo. E adesso passiamo un po' alla seconda parte di questa chiacchierata. Spero che fin qua sono stata chiara, come dicevo può essere un ripasso per chi già conosce tutto ciò, oppure nuove conoscenze perché è la prima volta che, o è da poco, che si è avvicinato a questo pensiero. La creazione del nuovo. Vabbè, cominciamo a definire cosa vuol dire creare. Creare è produrre qualcosa dal nulla. Creare è realizzare qualcosa sul piano concreto, quindi dargli una veste concreta, qualcosa che sia visibile, che sia percettibile. Ecco, magari non è visibile come un pensiero filosofico, non è visibile, ma non è una cosa concreta, materiale, ma è una cosa che si può percepire attraverso l'udito, attraverso gli occhi, se leggiamo. Creare è portare in esistenza. Portare in esistenza. Noi siamo creatori in ogni momento della nostra vita. Questo è un passaggio importante, secondo me, non ce ne rendiamo conto. E molti pensano di non avere creatività, di non avere immaginazione, ma noi continuamente immaginiamo e creiamo la nostra realtà. Purtroppo lo facciamo in modo inconscio. Dobbiamo imparare a diventare sempre più consapevoli di essere dei creatori e usare questa conoscenza a nostro vantaggio e non in modo automatico, come si usa per lo più. Adesso io faccio un discorso ovviamente generale, chi più, chi meno. Creazione del nuovo. Allora, prima di tutto, creare noi stessi. Ho fatto qualche esempio, l'esempio del sentirmi intelligente oppure non intelligente, l'esempio della faccina triste, della faccina allegra. Quindi la prima creazione importante, attraverso l'uso consapevole del pensiero, vedremo poi come, è quello di creare noi stessi. Poi creare il mondo esterno. Ma non solo, ripeto, creare gli oggetti del mondo esterno, perché noi possiamo creare, non so, i nostri vestiti, possiamo creare un quadro, possiamo creare tante cose. Ed è bene che ci sia questa parte della creazione, ma io parlo anche del proprio del creare le situazioni della nostra vita attraverso la nostra modalità di pensiero, come noi pensiamo, così creiamo. L'uomo quindi è la creazione del suo pensiero, ciò che egli pensa in seguito egli diventa. Il pensiero crea la realtà esterna e quindi siamo tutti frutto di un pensiero. E allora si passa continuamente dal piano dell'astrazione ideale al piano della realtà concreta. Esiste una legge che dice che l'energia segue il pensiero e forse l'avete sentito, l'avete sentita, l'avete letta. Che cosa vuol dire? Allora, il pensiero è un'energia. È un'energia che mette in moto qualche cosa di materiale, prima di tutto nel nostro cervello e nel nostro corpo e poi all'esterno attraverso le nostre azioni. Poi vediamo qualche legge della volontà per capire un po' meglio questo discorso. L'energia in sé è neutra, non è né positiva né negativa, dipende dal pensiero che io vi immetto. Quindi, tornando all'esempio di Pri, se io penso di essere una persona poco intelligente, io, per le leggi psicologiche che vedremo fra un po', mi comporterò in questo modo. Quindi creo un atteggiamento, un'azione, un comportamento nel mondo esterno che mi fa essere così. Se io penso di essere una persona intelligente, io così mi predispongo. La stessa cosa succede, per esempio, con l'energia elettrica. Usiamo un'altra analogia. Noi l'energia elettrica la possiamo usare per illuminare, per far funzionare un motore, per accendere il computer, per far accendere una stufa a scaldarci, oppure la possiamo usare per una chitarra. È sempre, per far andare a una chitarra elettrica, è sempre la stessa energia declinata in modi diversi. Cos'è cambiato? Lo strumento, il mezzo. Quindi, pensando agli esseri umani, a tutti noi esseri umani, ognuno di noi ha il suo strumento e usa questa energia qualificandola col suo pensiero. E a secondo di questo pensiero, naturalmente, avverrà qualche cosa di diverso, esattamente come il motore, la chitarra, il computer, la lice o la stufa elettrica, che vanno all'elettricità. Quindi il pensiero crea, ha una carica di energia che si concretizza in qualche cosa. Quindi dal pensiero energia diventa materia. Facciamo un esempio semplice. Io penso di volermi mangiare un risotto. Metto in moto una serie di comportamenti che portano poi ad agire all'interno della materia e io, con gli ingredienti che scelgo, con il gas, l'acqua e tutto quello che mi serve, io preparo il risotto. Cioè sono partita da un pensiero che è astratto sul piano dell'astrazione e ho creato qualcosa sul piano della materia. E questo noi lo facciamo continuamente. Oppure io voglio alzare un braccio, penso che voglio alzare un braccio e parte tutta una serie di meccanismi fisiologici molto complicati che mi portano alla fine ad alzare il braccio. Quindi sono partita da un piano astratto per arrivare a un fatto concreto. Vado avanti ancora e voglio leggere con voi questo aforisma che a me piace moltissimo e che mi ha dato tanto da pensare e che spero faccia... che molti lo conoscono. Vi chiedo per favore di chiudere i microfoni perché si sentono dei frusci o a meno che non vogliate fare delle domande che sono le benvenute. Allora dicevo questo aforisma mi ha fatto pensare e lo propongo perché è un po' in questo momento un po' riassunto di quello che abbiamo detto fino adesso. Allora dice semina un pensiero e otterrai un'azione. Abbiamo fatto qualche esempio. Continuando a ripetere quell'azione otterremo un'abitudine. Semina un'azione e otterrai un'abitudine. Se noi tutti i giorni alla stessa ora facciamo una certa cosa ci laviamo i denti questa cosa diventa un'abitudine tant'è che se non possiamo farlo ci manca qualcosa. Quando questa abitudine è protratta per molto tempo ottiene un carattere. Si arriva a avere un carattere quindi semina un'abitudine otterrà un carattere ma quel carattere produrrà un destino. Semina un carattere e otterrà un destino. Ma tutto è partito dal pensiero e siamo arrivati alla creazione di un destino di una vita che magari poi non ci piace ci lamentiamo e diciamo non è proprio quello che volevo non è quello che voglio ma non ci ricordiamo che siamo partiti in realtà da tanti pensieri tante scelte tante situazioni che ci hanno portato a questo punto. Vediamo cosa ci dice Assaggioli su tutto questo e volevo presentarvi un attimo le leggi della volontà ma due o tre soltanto tre ne parliamo solo di tre perché le leggi delle volontà richiederebbero tantissimo lavoro tantissimo studio richiedono tanto studio e perché hanno dietro tutto un mondo sono dieci come molti stanno e in pratica ci insegnano che il pensiero le idee le immagini le emozioni i sentimenti le azioni e gli atti sono collegati e interconnessi e uno produce e rinforza l'altro allora vediamo la prima legge che dice le immagini o le figure mentali e le idee tendono a produrre le condizioni fisiche e gli atti ad esse corrispondenti non posso entrare in questa serata in questo tempo col tempo che ho a parlare diffusamente di ogni legge però questa mi sembra quella che abbiamo di cui stiamo discutendo che dice in pratica che il pensiero e l'immagine hanno in sé un elemento motore cioè portano ad agire quindi tutti gli atti esterni che noi di cui abbiamo parlato e potremmo fare ancora tantissimi esempi pensare per esempio a un'emozione a un pensiero di rabbia che porta in movimento tutto il nostro corpo fino a farci avere un comportamento rabbioso con parole anche ma anche io in questo momento io ho pensato questa conferenza e adesso ve la sto raccontando e quindi il mio pensiero sta attivando la mia gestualità io sono una che gesticola un sacco ma anche tutte le mie corde vocali tutta la mia parte fonica che si sta attivando per raccontarvi questa idea questa idea che io ho e quindi questo è un esempio già così evidente di come funzionano pensieri che diventano poi suoni che diventano parole che diventano gesti la terza legge della volontà dice che le idee e le immagini tendono a suscitare le emozioni e i sentimenti ad esse corrispondenti quindi vediamo che le immagini le idee sono legate strettamente alle emozioni e infine la quarta legge ci dice che le emozioni tendono a suscitare e intensificare le idee e le immagini quindi pensiero emozione sentimento azione sono tutte collegate e una rinforza e attiva l'altra quindi noi possiamo usare queste leggi conoscendole e studiandole e lavorando sul nostro pensiero quindi diventando consapevoli di quello che pensiamo sempre più attivamente come dire attivi scusate il pasticcio attivamente attivi a costruire la nostra realtà interna e che poi diventerà anche esterna quindi noi possiamo creare noi stessi ricordiamoci velocemente che le immagini hanno un grande potere evocativo poiché agiscono direttamente sulla coscienza e la trasformano supponiamo anche qui un altro esempio di voler evocare noi la tranquillità siamo agitati siamo ansiosi vogliamo evocare la tranquillità è molto difficile dire all'emozione stai calma adesso smettila voglio essere calma non ci riusciamo ma possiamo usare un metodo indiretto usare un'immagine per esempio questa un lago calmo oppure un prato ricoperto di neve la cima di una montagna quindi un'immagine che per noi è significativa della calma della tranquillità e visualizzarla e tenerla nella nostra mente magari possiamo anche accompagnarla con una frase tipo io sono io mi sento calma e tranquilla possiamo riflettere sulla tranquillità ma in ogni caso se noi manteniamo la coscienza l'attenzione per un certo tempo non tanto tempo qualche minuto su questa immagine la nostra emotività si calma e noi quindi cosa abbiamo fatto? stiamo usando il pensiero le immagini per cambiare la realtà da ansiosa e agitata a tranquilla questo è uno dei tanti esempi che possiamo fare uno tra mille uno tra migliaia migliaia perché per ancora rinforzare quello che vi sto dicendo anche la forma e il colore ovviamente sono delle vibrazioni che noi possiamo usare a nostro vantaggio anche qua si aprirebbe un mondo si aprirebbe un mondo perché allora potremmo parlare del colore potremmo parlare delle forme di cui ci circondiamo potremmo parlare di un sacco di cose ovviamente questi sono poi tutti argomenti che sono stati trattati si trattano si tratteranno anche nei nostri centri di psicosintesi non a caso la pubblicità che vi ricordo è la seconda industria del mondo per fatturato dopo quella delle armi ahimè spende tutti questi soldi proprio per per indurci a comprare delle cose o a pensare in qualche modo a pensare qualche cosa e usa la pubblicità cosa usa? immagini usa delle immagini suggestive che stimolano tutta una serie di reazioni in noi che hanno l'effetto più o meno voluto da quelli che sono gli studiosi dei messaggi pubblicitari che non sono affatto degli stupidi quindi collegano all'immagine e al pensiero il desiderio che è il carbonante che ci muove e l'effetto come sappiamo è molto potente la facoltà la capacità di creare immagini è una facoltà innata in ogni uomo l'ho detto e ripetuto e prendiamola e coscienza e usiamola per i nostri scopi positivi ovviamente le persone intelligenti le persone intelligenti e creative usano l'immaginazione per creare nuove forme concrete per esempio i designer gli architetti gli architetti di giardino gli stilisti gli scrittori eccetera 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 quindi sono persone che dedicano tutta la loro vita a questi i pittori ovviamente gli scultori eccetera e così via però noi pensiamo di non poter essere alla loro altezza ma invece noi abbiamo questa capacità in potenza e la possiamo sviluppare le persone evolute usano consapevolmente questa capacità del pensiero per creare forme pensiero utili per l'evoluzione dell'umanità per esempio Assagioli ha creato la psicosintesi e prima di lui e dopo di lui idee scuole di pensiero filosofie religioni partiti politici e organizzazioni umanitarie o di vario tipo filantropiche quindi gli esseri umani da sempre e finché ci sarà la razza umana creano qualche cosa a tutti i livelli ma per creare dobbiamo rispettare i passaggi e qui entriamo un po' di più nel meccanismo anche pratico della creazione dell'atto creativo spero che fino a qua mi abbiate seguita che anche se ho ripetuto alcune cose più volte ma è un po' voluto no? perché ripetere certi concetti aiuta a fissarli allora bisogna rispettare i passaggi occorrono fondamentalmente tre cose affinché un pensiero possa diventare oggettivo l'impulso iniziale e la volontà dopo li vediamo in dettaglio l'impulso iniziale chiaro devo avere un'idea devo avere qualcosa che mi comincia a muovere almeno a livello astratto mi muove si mette in moto qualche cosa dentro di me e poi la volontà di concretizzare questo impulso ovviamente devo avere l'amore per l'idea devo amare quello che ho pensato e quell'idea che mi è venuta quell'intuizione o quell'impulso quell'immagine iniziale e poi usare l'attività intelligente qui si innesta l'intelligenza per realizzare concretamente quello che ho pensato perché la domanda è come si agisce come si concretizza nella materia e quali sono le condizioni necessarie affinché si possa realizzare qualcosa ho l'idea di farmi una bella cenetta ma poi devo passare alla pratica devo avere l'energia la volontà di farlo l'amore per questa cosa il desiderio e poi in modo intelligente metto in atto tutto quello che serve per avere per farmi una bella cenetta molte persone e questo è capitato anche a noi anche a me mi capita noi abbiamo idee ma queste restano nella mente restano qua e non vengono mai concretizzate quindi noi possiamo per esempio leggere finché vogliamo tutti i libri di psicosintesi con tutti questi belli esercizi queste belle cose che sentiamo vediamo ma non metterci mai all'opera e queste rimangono solo teoria possiamo leggere tutto sul nuotare possiamo leggere tutti i libri possibili sull'idrodinamica le leggi del nuoto dell'acqua dei corpi dentro l'acqua la legge di Archimede tutto quello che vogliamo essere dei grandi esperti ma non metterci mai nell'acqua e nuotare quindi non riusciamo possiamo avere tante idee e molti molti che ha una mente molto attiva tante idee ma ne concretizza poche perché per farlo occorrono determinati passaggi che bisogna fare poco o tanto altrimenti l'atto creativo non si non si completa in qualche modo quindi occorre un po' un intermediario che possa perché un pensiero possa scendere dal piano strato fino al piano materiale allora vediamo un po' quali sono questi passi il primo passo è ovvio devo volerlo fare l'idea da sola non basta quindi occorre la volontà altrimenti si rimane nel campo delle buone intenzioni di cui noi sappiamo è l'astricato l'inferno la mente è l'attività applicata con intelligenza da un'attività da un'entità scusate da un'entità pensante che abbiamo già visto che è l'io sé che usa la mente per produrre pensieri e immagini che poi devono essere con l'attività intelligente trasformati in qualcosa di concreto è la mente che definisce il proposito quindi dobbiamo avere uno scopo creare per esempio creare in me una qualità che ritengo importante io uso sempre questo esempio perché mi serve molto questa qualità che è la pazienza perché non sono una persona molto paziente quindi ho bisogno e ho lavorato tanto sulla pazienza con risultati alterni però occorre volerlo fare se non voglio farlo e già abbiamo chiuso la conversazione poi occorre amare l'idea che cosa vuol dire desiderarla desiderarla con tutto se stessi perché il desiderio che è un altro aspetto dell'amore è la forza motrice che dà energia all'idea cioè il desiderio è il potere motivante e occorre il desiderio perché se io penso una cosa magari ho anche la volontà di farla non so voglio fare un bel viaggio vorrei fare una bella cenetta ma poi non ho il desiderio davvero di farlo già mi sono fermata mi sono fermata alla prima tappa il desiderio è la mia forza motrice devo desiderare e tutti noi sappiamo che quando abbiamo veramente desiderato qualche cosa quel qualche cosa noi l'abbiamo realizzato l'abbiamo veramente realizzato abbiamo fatto qualsiasi cosa per realizzarlo lo so mi viene in mente l'innamoramento quando siamo stati tutti innamorati in quel momento l'obiettivo era avere una relazione con quella persona e quindi raggiungere l'oggetto del nostro amore e abbiamo fatto poi ognuno fa ovviamente quello che secondo il suo modo di essere tante cose e anche quello che le circostanze gli permette di fare fa cose ma in quel momento il nostro desiderio era unidirezionale concentrato e focalizzato solo su quella cosa lì e tutto il resto perdeva come di importanza occorre fare un progetto ho un'idea voglio realizzarla la desidero desidero farlo ma devo fare un progetto meglio scritto allora noi in psicosintesi chi frequenta da un po' sa che noi diamo molta importanza alla scrittura scrivere le cose scrivere le riflessioni scrivere i pensieri che ci vengono scrivere quello che non so magari abbiamo fatto una meditazione quello che ci è venuto in mente scrivere le riflessioni su qualcosa che leggiamo e noi sappiamo noi tutti diciamo chi frequenta da tanto sa benissimo per esempio che Assagioli ha scritto tantissimo su pezzetti di carta per cui c'è un c'è un archivio immenso e un patrimonio immenso di scritti erano tutti i pensieri che magari chissà dove era magari stava mangiando gli veniva un'idea la scriveva su un pezzetto di carta magari sul biglietto del tram oppure oppure stava magari stava meditando gli veniva qualche intuizione la scriveva perché perché scrivere permette di fissare perché i pensieri sono volatili se ha un'idea e io non la scrivo se ne vola via e ancora di più le intuizioni quindi quello che non è il frutto di un ragionamento quindi scrivere serve per importante per fissare non solo ma scrivere l'atto di scrivere in qualche modo fa sì che si stimoli un meccanismo per cui un pensiero tira l'altro e noi riusciamo a fare come un discorso un po' più completo compiuto e arrivano dall'inconscio dalla memoria altri elementi poi scrivere quindi ci attiva scrivere terapeutico perché scrivere oggettiva quello che sto scrivendo soprattutto se è un'esperienza negativa e quindi la oggettivo e la rendo mi distacco un pochino e la guardo un po' da fuori e questo stesso fatto questo solo fatto mi dà un po' di sollievo ancora di più quando devo fare devo attivarmi per realizzare un mio pensiero una mia idea devo progettare e allora io faccio sempre la domanda quando facciamo abbiamo fatto i corsi sulla volontà ma voi vi fideresti di un progettista che di un costruttore che non vi presenti mai una piantina della casa che volete comprare oppure vi fidereste di un artigiano che non vi faccia un preventivo scritto del lavoro dei costi di quello che serve i tempi eccetera eccetera credo di no credo che nessuno di noi sia così ingenuo da non volere qualcosa di cartaceo questo per quanto riguarda la vita quotidiana abbiamo bisogno di avere carte contratti cose scritte piantine preventivi eccetera ma perché nella vita quando parliamo della vita psichica della vita interiore tutto questo si ferma e noi non scriviamo mai niente e quindi viviamo un po' casualmente io tante volte me la sono fatta questa domanda anche un po' con un senso di autocritica dicendo beh insomma così come pretendi fuori nella vita quotidiana devi anche pretendere da te stessa questa stessa attenzione quindi fare un progetto scritto di quello che voglio fare per fare proprio come dire scrivere nero su bianco qual è quello che mi prefigo arriva il momento della scelta arriva il momento in cui dobbiamo passare dal piano ideale quindi al piano dell'ideazione al piano più concreto abbiamo pensato abbiamo desiderato abbiamo progettato ora è il momento di scegliere di scegliere quindi se voglio fare un viaggio dovrò scegliere mettere via i soldi usare quei soldi per il viaggio e non per che ne so comprarmi uno stereo o fare un'altra cosa quindi oppure devo scegliere di usare il mio tempo per studiare una lingua oppure scegliere di usare un'ora al giorno per lavorare sulla mia qualità che voglio sviluppare che è la pazienza quindi scelgo e nel momento in cui scelgo devo sapere che se faccio una cosa devo rinunciare a un'altra quindi devo mettere in campo anche il tema della rinuncia devo saper rinunciare ci sono persone che non sanno scegliere per tante ragioni ma una di queste è il non saper rinunciare scegliere è rinunciare per forza o faccio una cosa o non faccio un'altra ma non abbiamo non abbiamo scelta dobbiamo scegliere non c'è scelta nella vita continuamente dobbiamo scegliere mi alzo dal letto resto a dormire vado al lavoro o mi do malata faccio da mangiare oppure salto e mangio pane e formaggio continuamente noi continuamente scegliamo molte cose sono fatte in modo automatico molte cose sono fatte sull'impulso vestito qua stiamo parlando di un lavoro consapevole ho pensato amo il mio pensì quello che ho pensato il mio progetto lo desidero ho progettato e adesso scelgo scelgo di farlo ovviamente occorre anche un'analisi di fattibilità come il nostro bravo Sherlock Holmes dell'immagine noi dobbiamo anche analizzare se è fattibile quello che vogliamo fare è il momento è il momento giusto per fare qualcosa o se occorre denaro ho il denaro corrente se ho un viaggio ho le vacanze posso assentarmi dal lavoro ho tutti i mezzi che mi servono i mezzi per mezzi posso pensare anche alla conoscenza se io devo sviluppare la pazienza devo sapere come fare perché è una come dire è la sviluppo di una qualità che mi richiede delle tecniche particolari cioè se io voglio sviluppare il mio corpo fisico so che vado in palestra e farò certi esercizi mi prenderò un personal trainer che mi dirà fai così fai cosa ma per la parte più interiore io devo avere la conoscenza quindi o andrò da un esperto o farò un corso mi leggerò un libro ma troverò delle tecniche quindi i mezzi adeguati quindi l'analisi di fattibilità è ho tutto quello che mi serve è il momento giusto questo posso dedicare del tempo a questa cosa e quindi poi mi posso rispondere e poi deve diventare lo scopo portante magari di questo momento della mia vita o a volte anche lo scopo dell'intera vita ci possono essere degli scopi che sono per tutta la vita e quindi devo saper rinunciare ad altri progetti per concentrarmi su questa sola idea e questo diventa il mio ideale ovviamente parliamo di cose grandi noi possiamo concentrarci su cose molto piccole su su dei progetti più contenuti nel tempo e nello spazio ovviamente tutto è lecito va tutto bene però poi ci sono i grandi ideali ci sono persone che hanno vissuto tutta la vita per quell'ideale che è diventato appunto lo scopo portante e ora non possiamo fare altro che passare all'azione quindi abbiamo pensato abbiamo amato questo pensiero lo desideriamo desideriamo realizzare quella cosa lì abbiamo progettato abbiamo scelto di farlo abbiamo anche stabilito che ok questo è il momento ho tutto quello che mi serve è il mio ideale per questo momento è il mio scopo e ora passo all'azione e ovviamente qui dobbiamo solo agire in modo pratico eseguendo il progetto che abbiamo redatto e quindi a questo punto si parte questi sono i passaggi dell'atto creativo e qualunque artista ma anche noi quando veramente sempre anche ognuno di noi nella sua vita quotidiana se ci pensiamo bene qualunque cosa abbiamo fatto e qualunque cosa facciamo noi abbiamo facciamo questi passaggi per forza perché sono magari sono passaggi che durano dentro di noi dei secondi è velocissimo però noi li facciamo sempre se stiamo attenti ci possiamo rendere conto che sempre noi quando abbiamo un'idea poi prima di arrivare all'azione in qualche modo dentro di noi si struttura tutto quello che sto dicendo e poi per chi conosce l'attico sintesi questi sono anche i passaggi dell'atto di volontà che richiederebbe naturalmente una conferenza a parte della volontà nel programma del centro di Varese c'è una conferenza sulla volontà io guardando guardando l'elenco delle conferenze sto facendo questa digressione perché siamo in chiusura della conferenza guardando l'elenco delle conferenze mi sono resa conto che ne parlavamo anche con Margherita che sono un po' come dire sono tutti pezzi tessere di un mosaico che porteranno alla fine di questo anno ad avere una visione compiuta della creazione del potere creativo che abbiamo come individui declinato in molti modi diversi comunque l'anno prossimo ci sarà anche una conferenza sul valore sull'uso il ruolo della volontà nell'atto creativo e vorrei concludere questa chiacchierata con una storia la forza del pensiero concentrato la goccia che scava il marmo questa storia è presa di un di un istruttore diciamo così di un istruttore spirituale di un considerato un maestro un iniziato che è una storia vera la testimonianza del figlio di questo individuo che ha scritto tanti libri sulla forza quella forza del pensiero che gli fu insegnata da suo padre e la leggiamo insieme ricordo che quando ero bambino mio padre mi portò in una grotta profonda circa un miglio e gli portavo una grande torcia ed io lo seguivo con attenzione mentre guardavo le grandi ombre sui muri ed ascoltavo gli ecchi delle nostre parole alla fine ci fermammo e mio padre mi mostrò una sporgenza a forma di lingua spessa circa mezzo metro che si protendeva nella grotta mi mostrò anche una roccia in alto simile ad un dito da cui le gocce di acqua cadevano ritmicamente dopo che Levi guardate disse ho una domanda da farti hai visto la goccia cadere dal soffitto mai notato dove è finita mi guardò e sollevò la torcia per aiutarmi a vedere meglio notai che le gocce cadevano sulla roccia e la attraversavano era curioso perché essa era veramente molto spessa allora mi calai sotto per vedere cosa stava succedendo vedi che la roccia aveva un foro del diametro di circa due centimetri e che le gocce cadevano in un buco simile ad un tubo e finivano sul terreno sai come è potuto accadere ciò no pensaci le gocce hanno colpito la roccia per secoli e l'hanno forata sì ti ho portato qui per vedere questo fatto e per apprendere una lezione un pensiero concentrato in una qualsiasi direzione se continuato può produrre cose che sembrano impossibili quando uscimo all'aperto mio padre mi guardò di nuovo negli occhi e mi disse la forza del pensiero ed il segreto di come pensare queste sono le chiavi che aprono tutto non dimenticarlo la cosa più debole è una goccia d'acqua ma può forare una roccia poi saltò a cavallo e mi pose dinanzi a lui andavamo tra le alte montagne verso la sinfonia del tramonto grazie grazie a tutti